Grazie Presidente. Se vediamo le notizie che vengono dalla Nigeria, purtroppo stiamo leggendo un bollettino di guerra. A farne le spese sono bambini e ragazzini dai 5 ai 14 anni che vengono utilizzati in modo vile per attentati kamikaze. L'ONU, le Nazioni Unite, tramite l'agenzia dell'Unicef, ha dichiarato che dei 50 milioni di euro necessari ne sono arrivati solamente il 32% per fronteggiare questa emergenza. I donatori internazionali, incluso l'Unione Europea, devono fare di più e mandare fondi addizionali. Bisogna adottare misure anche per proteggere i civili e bisogna permettere alle ragazzine violentate anche di avere i relativi servizi medici, incluso anche l'aborto, con l'assistenza di programmi di recupero sociale. Ma dobbiamo anche capire però che se non adottiamo politiche più lungimiranti e sostenibili e se non interveniamo sull'origine del problema terroristico, che sono le condizioni di povertà e la governance inefficace, la corruzione, noi non risolveremo mai il problema, né in Nigeria né altrove. Dobbiamo risolvere appunto le crisi di oggi e prevenire quelle di domani cambiando la nostra condotta.